Grazie Presidente. Gentile Presidente, colleghi deputati, Ministro per le Riforme Costituzionali. L'articolo 138 della Costituzione così recita. Le leggi di revisione della Costituzione, quella ad esempio oggi in esame, e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera, 500 mila elettori o cinque consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Ho ritenuto opportuno leggerlo perché non so quanti effettivamente di noi l'abbiano letto, quantomeno compreso la razio di questo articolo, visto che qui siedono, non chiaramente in questo momento, ma inteso in senso generale, deputati che ritengono questo disegno di legge del Governo perfettamente costituzionale. Il cronoprogramma stabilito da questo disegno di legge rappresenta uno degli aspetti sui quali si è concentrata l'attenzione critica, e lo sottolineo critica, dei più grandi costituzionalisti d'Italia. Costituzionalisti che ci tengo a sottolinearlo non sono attivisti del Movimento 5 Stelle. In perfetta linea col cronoprogramma dei tempi assai ristretti stabiliti dal Governo sono state non solo la discussione in Commissione, che è durata circa un'oretta, ma altre sulle audizioni, un'ora e venticinque, di eccelsi giuristi cui abbiamo dedicato ben cinque minuti ciascuno, forse visto che i rilievi dagli stessi sollevati non erano proprio in favore della costituzionalità del disegno di legge che oggi ci apprestiamo a discutere, tant'è che qualcuno ha persino detto che le audizioni andrebbero filtrate. Alessandro Pace, nell'elencare i profili del DDL 1359 che si distaccano dal modello costituzionale, e cioè tanto per capirsi si allontanano dalla previsione della nostra Costituzione, quindi parafrasando sono incostituzionali, ha sollevato problemi relativamente alla procedura di approvazione delle leggi di revisione costituzionale, cui cito testualmente. Viene esplicitamente sottoposta ad un cronoprogramma a tempi ristretti. Come tale è antitetico alle caratteristiche di riflessione e ponderatezza tipica delle procedure di revisione costituzionale, dimenticando così che i tempi lunghi della revisione servono, anche per consentire a chi sta fuori dalle Aule parlamentari, di farsi un'idea di quanto si intende fare, delle conseguenze che si aprono, delle conseguenze che certe modifiche sono in grado di produrre, soprattutto in futuro. Cito sempre testualmente. Nella logica aberrante, nello sottolino aberrante, del cronoprogramma governativo, addirittura l'intervallo di tre mesi tra la prima e la seconda deliberazione previsto dal 138 sono inammissibilmente ridotte a 45 giorni. Ecco, quanto detto da pace avrebbe dovuto far riflettere tutti, quanto meno i componenti della Commissione Affari Costituzionali. E invece nessuno ha battuto ciglio in Commissione. Anzi, ci siamo adeguati addirittura noi ai tempi e abbiamo chiuso la discussione dopo solo due ore e venticinque di dibattito ed infinite lagne, tanto per usare un termine tanto caro al nostro Presidente Sisto, da parte del Movimento 5 Stelle. Il DDL di revisione costituzionale del Governo sostituisce alle regole ordinarie una procedura estremamente semplificata per l'approvazione delle future riforme, che non è affatto compensata dalla previsione di un referendum finale. Tali semplificazioni violano sia la procedura aggravata prevista dal 138, sia le regole costituzionali sul procedimento legislativo ordinario, di cui all'articolo 72 della Costituzione, sia le norme dei regolamenti parlamentari, che in ciascun ramo sono dedicate all'approvazione delle leggi di revisione costituzionale e che, proprio in considerazione della gravità della decisione di riformare la Costituzione, aumentano le garanzie ordinariamente previste. Le semplificazioni introdotte, viceversa, si disfano delle garanzie speciali del procedimento di revisione e persino di quelle per un ordinario procedimento legislativo. La prima semplificazione consiste nell'accompamento in un unico organo bicamerale dell'attività referente, che coi suoi 42 membri si occuperà di riferire ad entrambe le Assemblee. Salta, quindi, un primo passaggio procedurale necessario ai sensi dell'articolo 72, ultimo comma della Costituzione, l'esame referente nelle rispettive commissioni permanenti e affari costituzionali. La simultaneità dell'esame referente da parte dei senatori e deputati designati all'interno del Comitato, inoltre, comprime quel periodo di decantazione che, nel passaggio da un ramo all'altro, è sempre assicurato addirittura per le leggi ordinarie. La seconda semplificazione, che è certamente incostituzionale, consiste nel disegnare un'anomala corsia preferenziale per le future riforme che assicurano di approdare in tempi certi ad un voto finale, come se si trattasse di un disegno di legge qualsiasi, di un decreto legge o di approvare addirittura una legge di bilancio. In un'illustre studiosa di diritto parlamentare, Michela Manetti ha osservato in proposito che questo procedimento si ispira al modello della blindatura – blindatura, lo ripeto perché è abbastanza grave – sancendolo nel modo più solenne e simbolico. Sono preventivamente stabiliti i tempi che dovranno cadenzare le fasi intermedie dell'iter parlamentare. Sono particolarmente gravi le seguenti previsioni. Articolo 4,2, che assegna sei mesi al Comitato per concludere l'esame in sede referente. Articolo 4,3, assegna tre mesi a ciascuna Assemblea per terminare la prima lettura. Considerato che, una volta che la prima Camera abbia approvato entro tre mesi il progetto, l'altra lo deve approvare nei successivi tre, la seconda non potrà di fatto introdurre modifiche al progetto varato dalla prima, costringendo quest'ultima a deliberare nuovamente pena al superamento dei limiti temporali stabiliti. Possiamo perciò dire che il bicameralismo è già stato abolito senza aspettare delle future leggi in merito che cancellino o modifichino. è inoltre fissato un termine complessivo finale di 18 mesi per terminare l'intero iter. Citerò a questo proposito le parole dell'ex Presidente del Senato e attuale Capogruppo del PDL, Renato Schifani, che proprio contro la previsione dei termini finali imposti al Parlamento per compiere l'attività più importante e delicata ad esso competente, cioè le riforme della Costituzione, si è espresso chiaramente osservando, cito testualmente, se approveremo questo testo con un termine di 18 mesi creiamo un precedente, un precedente che sa quasi di commissariamento, di pseudo-commissariamento del Parlamento e questo non mi piace. Ecco colleghi, chi l'avrebbe detto mai mi trovo perfettamente concorda con Schifani. Grazie. Grazie. Grazie.